Il Casse al Biomediterraneo è stato un grande successo per la Sicilia e per tutti i paesi al Mediterraneo. Siamo riusciti a promuovere l'identità di Sicilia, a valorizzare l'innovazione e l'integrazione mediterranea. Apprendo questo commissariamento ad Acta che si va ad aggiungere alla commissione ispettiva che già esisteva, che era stata nominata al Presidente della Regione nel mese di maggio e che ha lavorato al mio fianco, ha visionato tutti gli atti. E quindi mi fa una certa sorpresa vedere oggi non solo la nomina del commissario ad Acta ma una serie di imprecisioni che vengono rilevate sul giornale proprio perché tutti quegli atti sono stati oggetto proprio di attività e di valutazione. Cioè già il responsabile del cluster aveva una commissione ispettiva, questa è la seconda, ovviamente lavorerò pure con la seconda commissione. Grazie 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 Grazie